Arriva puntuale la nota del consigliere agropolese Consolato Natalino Caccamo alle affermazioni del sindaco di Agropoli Adamo Coppola riguardo ai fatti accaduti qualche giorno fa presso il liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli quando la consigliera Gisella Botticchio è stata allontanata dall'edificio e come ha rilasciato ai nostri microfoni, offesa in malo modo ad accompagnare la consigliera anche Consolato Natalino Caccamo che in una nota risponde al sindaco. Si è fatto una grande strumentalizzazione di questa vicenda, premetto che il nostro intento era quello dei più pacifici e dei più sereni, era compulsato da una preoccupazione collettiva, molti delle persone a noi vicine, molti cittadini ci avevano contattato per conoscere meglio la faccenda. Io parlando con i miei ho detto sempre cerchiamo di non fare uscire notizie forvianti, informiamoci sempre ove possibile alla fonte, con questo spirito venerdì mattina ci siamo recati insieme alla collega Botticchio di fronte a scuola perché noi in effetti a scuola non ci siamo entrati. Quando leggo di sopralluoghi, ispezioni, sono terminologie talmente forvianti ma è chiaro che poi ne scatta un putiferio, sono bravi ad articolare le parole ma non conoscono i fatti, non erano presenti, come fanno a raccontarli? E' qua la speculazione. Allora fatevele raccontare da chi c'era, io ho fatto sia un comunicato stampa di chierimento, farò anche una nota alla polizia giudiziaria che probabilmente aprirà un'indagine in corso. Molto semplicemente davanti la porta, la collega Botticchio apre la porta, io ero fuori a parlare con il collega Abate al telefono, quindi nessuna irruzione, nessuna atti vandalici di sfondamento ci mancherebbe. Non siamo così sprovveduti da non conoscere i nostri diritti e i nostri doveri soprattutto. Quindi quando ci mettono quelle paroline magiche sono fuorvianti e sono anche diffamatori a certo punto di vista perché ledono la nostra immagine, la nostra anche professionalità di conoscenza dei regolamenti. E' chiaro che a scuola si entra col permesso. L'anno scorso per esempio chiesi a tutti gli istituti scolastici di poter visitare i plessi previa autorizzazione del dirigente scolastico. Io ne ho visitati tanti i plessi scolastici e ricordo non ultimo la visita alla scuola Scudiero che ha permesso di contrastare quelle comunicati che facevano passare sicurezza, ma in effetti sicurezza non c'era. Tanto è vero che in settimana fortunatamente cominceranno i lavori di adeguamento e repristine di quella struttura e i ragazzi sono messi al sicuro in un'altra struttura ben più adeguata rispetto a quella che io ho visitato. Bene, con questo spirito, giovedì mattina, niente di meno che assisto, sono testimone di un assalto, una lite alla collega Botticchio. Sfido chiunque a non intervenire quando soprattutto una donna grida non mi metta le mani addosso. Io non ho assistito direttamente alla scena, ma ho sentito, sono entrato nell'atrio, ho chiesto di possibilmente avere un dialogo in un luogo più idoneo ed effettivamente il professore Mantione ci ha cordialmente invitati a sedere nella stanza di presidenza, credo di segreteria. Ad ogni modo lì abbiamo tenuto un confronto, anche acceso da questo punto di vista, ma ripeto, la nostra intenzione era l'unico interesse di tutelare l'integrità, se non della sanità pubblica che non è nostra prerogativa, perché il sindaco, l'autorità massima di pubblica sicurezza è l'ASL che appunto ne ha nel suo scopo statutario, ma nella nostra prerogativa è quella di informarci per informare, altrimenti i cittadini dove le devono prendere queste informazioni? Davanti al bar, nelle chat dei genitori, dove devono informarsi? Chiaramente alle rassicuranti informazioni tra virgolette governative, non fidandoci siamo andati ad apprendere le nostre informazioni, proprio per non fare quella disinformazione fatta in questi giorni. Per quanto riguarda invece le richieste fatte via Pecca agli istituti scolastici, risulta magari che qualcuno non abbia ancora risposto? Sì, era proprio il liceo scientifico Alfonso Gatto che non aveva risposto. Compulsati i servizi amministrativi, sollecitati dallo scrivente anche dei comunicati pubblici, mi è stato detto che erano stati ritenuti delle mail massive e non indirizzate specificamente al liceo, in effetti avevo scritto tutte le scuole chiaramente, però tanti mi hanno contattato. Ad ogni modo è stata recuperata questa richiesta ed è stata accolta e prossimamente andrò a fare visita sia alla struttura che al dirigente scolastico.